E' tutta la settimana che lo dico, mi sentivo che oggi avremmo vinto e è andata bene, spero di sentimelo più spesso. No, allora, adesso sicuramente sappiamo che siamo questi, al di là purtroppo della brutta cosa di Montfayet, adesso siamo questi. E' già un buon periodo che stiamo lavorando con questi giocatori senza via e vai come c'è stato prima. Quindi diciamo che stiamo trovando la giusta chimica, siamo più squadra adesso. E sono certo che andando avanti miglioreremo ancora e sarà tosto per tutti. Giocare contro di noi. Sto fermo un mese. E quando si sta fermi un mese non sembra, però è tosta quando ritorni. Adesso io assolutamente non sono al top della forma, però adesso abbiamo due settimane senza la Coppa, in cui ci alleneremo e quindi sicuramente mi serviranno tantissimo per recuperare. Pian pianino spero di tornare a quello di prima, adesso ancora ci sono lontano, però devo dire che io comunque oggi, al di là della vittoria, sulla mia prestazione sono contento perché ho dato tutto, poi ho fatto errori sicuramente, però ho dato tutto e sono contento.